Il 12 e 13 dicembre in diretta streaming dagli spazi della Manifattura Tabacchi si svolgerà la seconda edizione di Lucia, la radio al cinema, festival internazionale dedicato all'ascolto di opere radiofoniche e di podcast. Un evento radiofonico online che ospiterà live talk, digital masterclass, sessioni guidate di ascolto, narrazioni sonore, podcast e produzioni radio da tutto il mondo. Durante Lucia si potranno ascoltare documentari e fiction, produzioni radiofoniche e podcast internazionali, molti dei quali saranno sottotitolati per la prima volta in assoluto in lingua italiana. Tra le novità di questa edizione, IAS, You Are So Sound, il programma europeo di mentorship e digital masterclass per producer audio. Ideato da Radio Papese, ambisce a contribuire a una maggiore diversità di prospettive, linguaggi e rappresentazione nella produzione audio europea, fornendo ad autori e produttori audio europei e mediterranei le competenze e le risorse per avanzare nei loro progetti e nelle loro carriere.